e siamo arrivati proprio nel cuore di roma nel tempio della medusa questa grandissima casa di produzione di distribuzione insomma del cinema italiano e della grande commedia italiana esportata all'estero in tutto il mondo allora medusa film e siamo proprio con il direttore della distribuzione di questa grande famiglia allora paolo orlando piacere ci siamo ritrovati dopo il festival del cinema di reggio calabria in cui appunto eri uno in giuria degli ospiti eccellenti di questa bella manifestazione della calabria perché voi girate anche per ovviamente fare gli ospiti presenze importanti in festival anche importanti allora paolo orlando parliamo un po degli ultimi diciamo successi che però hanno avuto poi un po rallentamento riguardo al covid insomma l'esperienza brutta che ci ha coinvolti tutti sì innanzitutto ben ritrovata grazie a tutti anche ai telespettatori e sì insomma è stato ovviamente un momento forte per tutti anche e soprattutto per il cinema abbiamo vissuto ben due lockdown anche noi come settore come industria per cui avevamo un po sperato che durante l'estate si potesse ricominciare avevamo anche riaperto il cinema e c'erano stati insomma dei tentativi di uscita dei film e poi purtroppo ci è ripiombato addosso questo macigno enorme anche forse più pesante di prima e abbiamo dovuto come tutti quanti purtroppo dolorosamente chiudere le attività però stiamo lavorando per ripartire parliamo appunto di qualche opera insomma di registi di cast che erano stati impegnati o comunque anche adesso avete dei bei progetti sì noi praticamente quando esplosa la prima emergenza sanitaria avevamo in sala il l'ultimo film di fausto brizzi che era con abbata antuono e cristian desica si chiamava la mia banda su nel pop però era proprio fine febbraio quindi proprio da lì a poco sarebbe scoppiato questo disastro enorme successivamente avevamo previsto in uscita marzo e ad aprile due film due commedie diverse un'era cambio tutto con valentina lodovini e l'altro era per il tuo bene con giallini salemme battistone un super cast di donne e anche quello purtroppo è stato ovviamente travolto dal dalla situazione per cui abbiamo un po di tempo tentato di aspettare il più possibile per poter poi andare effettivamente al cinema quando poi ci siamo resi conto che la situazione era ben lì da da risolversi abbiamo deciso di portare i film sulle piattaforme che sono un po state la grande sorpresa del di questo periodo insomma allora che rapporto avete con le piattaforme soprattutto appunto la medusa che rapporto ha allora sarebbe diciamo ingiusto dire che le piattaforme sono arrivate hanno travolto tutto è chiaro che era un meccanismo era un fenomeno che si era già attivato e fa parte del naturale corso delle cose dell'evoluzione della modernità sicuramente la pandemia quindi la crisi sanitaria essa legata con il lockdown ha accelerato un po' questa dinamica però noi guardiamo a questo a questo scenario come uno scenario di collaborazione che possa integrarsi a quella che rimane per noi la principale e iniziale comunque finestra di sfruttamento dei film che è la sala cinematografica però non siamo talebani tra virgolette cioè crediamo che la collaborazione ragionamento come fu a suo tempo poi con l'avvento delle televisioni private insomma anche lì si minacciava e si credeva che sarebbe successo chissà cosa invece poi abbiamo visto che sono due mondi che possono convivere benissimo tra di loro e infatti varie piattaforme e quindi poi per una possibile invece riapertura quali sono gli scenari che si prospettano allora in questo ultimo periodo ci sono diciamo delle ritrovate possibilità e speranze di riapertura ancora non c'è nulla di definito ovviamente perché siamo tutti aspettando l'evoluzione dello scenario e anche quanto il nuovo governo avrà intenzione di fare però sia a livello associativo quindi di tutti gli operatori del settore sia proprio come singole aziende ci stiamo dando tutti molto da fare stiamo lavorando molto per farci trovare pronti non appena sarà possibile tornare al cinema sia come spettatori che ovviamente da professionisti e da addetti ai lavori beh qua abbiamo ovviamente dei poster un po della storia di questa grande produzione e distribuzione da ficcare piccone l'ora legale aldo giovanni e giacomo che sono stati i per lanciati con la banda dei babbi natali ma tanti altri perfetti sconosciuti che ha avuto un ottimissimo successo anche all'estero uno dei film più distribuiti anche all'estero e poi dieci giorni senza mamma poi abbiamo cuovado che sarebbe il film famoso anche di che cosalone poi l'ultimo bacio poi abbiamo anche vari davidi donatella la grande bellezza la grande bellezza addirittura abbiamo vinto l'oscar siamo 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 riusciti a riportare l'oscar in italia dopo tantissimi anni se non ricordo male l'ultimo fu il grande benigni e con paolo sorrentino siamo riusciti a riportare l'oscar in italia sì insomma abbiamo sempre tentato di coniugare la formula della qualità e della e della dell'essere popolari insomma dell'essere il più possibile larghi per cercare di intercettare i gusti del pubblico però senza per questo dover sacrificare anche la qualità perché anche nell'ambito della commedia insomma i nomi che prima citavi sono i principi davvero della commedia noi siamo onorati di poterli annoverare pressoché tutti perché poi insomma sono passati tutti da qui anche quelli che adesso hanno scelto alte strade ma non solo perché appunto poi abbiamo anche tenuto a battesimo e sviluppato progetti di grandissimi autori italiani insomma penso a tornatore penso appunto a sorrentino birzi insomma tanti altri e la formula rimane sempre questa con una grande attenzione al pubblico una grande attenzione proprio alla validità delle storie che poi è quello che maggiormente seduce no e poi siete sul set con tantissimi altri film ho visto proprio nutrito una femmina tra l'altro con un autore nuovo calabrese poi la tana della tigre chiamate un dottore di guido chiesa che anche un regista di origine torinese ma che ha fatto molto successo nel mondo e poi il primo giorno della mia vita insomma tanti tanti titoli che sono sul set stanno per finire insomma quindi voi producete sempre la distribuzione comunque se non è nelle sale cinematografiche e sulle piattaforme quindi grazie a un personaggio eccellenza perché noi anche grande italia ci teniamo a sottolineare le eccellenze italiane e in una bella squadra insomma uno che poi è laureato al dams poi ha fatto dei master importanti però è subito stato adocchiato dalla medusa per lavorare con la medusa un po nel marketing all'inizio e poi anche come esercente cinema con the space con tanti altri e poi fino ad arrivare qua proprio come direttore dal 2018 mi sono dato abbastanza da fare ho fatto della mia passione la mia professione penso sia una cosa una grande fortuna perché credo che non non tutti possano dire di fare con piacere il lavoro che che devono fare però insomma poi penso che alla fine l'approccio professionale paghi molto il coinvolgimento personale ecco quello sicuramente allora complimenti sempre per il grande lavoro complimenti alla medusa complimenti a paolo orlando grazie di essere qui con noi e alla prossima verremo a trovare sicuramente per queste bellissime uscite in sicurezza delle sale cinematografiche grazie